e bentrovati con una nuova edizione del tournament review il nostro solito appuntamento che ci ci porta in giro per il mondo a vedere come sono andati i torni più importanti del fine settimana questo fine settimana è l'ultimo fine settimana di gioco prima dell'uscita del nuovo chapter approved nuovo balance data slate e nuovo mulitorium field manual quindi in settimana avremo punti nuovi missioni nuove aggiornamenti nuovi per un meta che potrebbe da qui a tre giorni rivoluzionarsi completamente andiamo a vedere questo fine settimana come è andata in particolar modo al front line gaming atlantic city open 2024 torneo svolto in america con 209 partecipanti per un totale di otto partite otto partite che hanno visto trionfare alla fine i negron di sean reynolds supra e black templar e blood angel ma se vediamo la solita distribuzione della top 8 notiamo qualcosa di più particolare negron black templar e blood angel singoli poi abbiamo caos space marine taos and song taos and song caos demon caos space marine quindi una fortissima presenza di space marine cioè di caos space marine codex nuovo ci può stare che male la gente lo porta però comunque ce ne sono 12 con una sola sconfitta ben intero male poi scendendo abbiamo tirani di genstealer astra space world for eaters di nuovo caos space marine eldar league of otan world eaters nel senso abbiamo una vari eserciti che si sono che si sono assestate 20 fino al due sconfitte è strano giusto vedere il primo orco 26esimo uno se le aspetta per lo strabo 3 che stanno avendo più sopra mentre il primo tau in questo caso è 32esimo con tre sconfitte andiamo a vedere le liste dei primi 3 vediamo il blood d'angel di jesper che portava sonso of sanguinius quindi un ritorno praticamente al detach specifico con le martes e il sanguiner doppio capitano a piedi cappellano col jump pack sanguina reprise col jump pack due assolto intercessor da 5 a piedi due assolto intercessor da 5 col jump pack una death company col jump pack da 10 un'altra death company col jump pack da 10 due squadra di sconfitte da 10 due squadra che porteranno le due da 5 di assolto intercessor è una lista molto particolare vediamo comunque che sono andati sul 20 per di death company qualitavati da 10 per di vangard veteran due di scout giustamente per fare le secondarie però poi abbiamo anche due di assolto intercessor col jump pack mobili riescono a comunque dare un po' di danno extra e due di assoluto intercessor battle line dove probabilmente ci vanno i due capitani dentro e abbiamo praticamente una schiera votata meramente all'attacco di solito si vedevano liste con con più carri con più anticarro qua invece niente si mettono 10 20 30 40 50 60 marine una liste con 60 marine e due impulsor strana però intanto è arrivato con 7 vittorie perdendo la finale mi sa infatti ha perso solo la finale le ha date le ha date anche forte poi vediamo il black templar il black templar secondo me iron storm no gladius apotecario judiciar una di assoluto intercessor 2 3 4 4 crociate da 5 una crociata da 10 2 crociate da 10 un impulso un razor back per portare tutta questa manamba di marine e poi 1 2 3 assoluto intercessor da 5 una di passatore una di radicator una di infernus radicator da 5 da 6 andranno con il con l'apotecario che ha fire discipline sicuro come la morte fire discipline perfetto poi un infernus strana scelta 2 di scout e una di voldsman per fare punti se vediamo questa lista non è che si distacca molto da quella dei blood angel nel senso abbiamo comunque qua 5 10 15 20 25 35 45 45 marine con qua abbiamo 4 carri per il trasporto 45 50 60 65 70 80 qua abbiamo 86 marine più i i voldsman abbiamo comunque 90 modelli di fanteria con 4 carri semplice liscia vado avanti picchio niente di di così dici mega unità mega no vado avanti picchio vediamo quello che succede Sean Reynolds invece questa mi è andata a spizzare porta una canop tech differente da quella che siamo soliti vedere con doppio tecnomante silent king e un trascendente poi vediamo che c'ha 2 di arachnites gli spettri di forgeward 3 doom stalker 2 di spettri 3 destroyer singoli per fare le secondarie gli arachnites c'è chi li gioca c'è chi non li gioca all'estero li giocano molto più perché ovviamente vabbè più facile prenderli più facile hanno anche disponibilità economiche diverse nel senso si giocano li prendo via vediamo come vanno particolare la scelta del silent king perché comunque un modello che prende 420 punti non ha manco tanti di quei bonus in questa forse si perché essendo non mi ricordo non penso che ci abbia la keyword cryptech non penso proprio vediamo silent king le keyword veicolo character epic hero silent king no quindi boh è strano strano però tanto ha vinto la pazzia sta sempre nella mente dei migliori quindi complimenti a lui che si è portato a casa 8 partite su 8 altro mega evento del fine settimana c'è stato il Bristol Super Mayor 275 giocatori per 7 round 5 più top top cut nella top cut vediamo world eaters che si riaffacciano alla scena competitiva pesante nel senso di top di tornado dopo un po' di tempo black templar necron caos space marine in questo caso vincituri andiamo a dare un occhio a queste liste il world eaters gioca angron karn principe demone master of executioner poi il gioco è una doppia di jackal doppia di berserker da 10 doppio raio per portare berserker 1 2 3 3 3 spawn 2 2 elbrut lista molto strana che però effettivamente sta vedendo quello di cui parlavamo l'ultima volta meglio e berserker degli 8 bound questa lista dice di sì nel senso se portato 20 berserker non ha messo manco un 8 bound ha perso ovviamente solo in top cut black templar con la riteus crusade castellano grimaldus elbrecht crusader squad enorme questa qua alta crusader squad enorme 2 squadre dattiche mamma mia bruttissimo però 3 squadre dattiche 4 squadre dattiche brutta la roba vecchia non la posso vedere io 2 di 5 assolto intercessor col jump pack ormai immancabili in quasi tutte le liste marine un incursor un infiltrator 2 3 scout squad questa lista sempre va sulla monofanteria però non mi piacciono a me la roba vecchia la roba vecchia non mi piace proprio negrano regalo secondo con l'hypercrypt quindi alto detachment che gioca ingannatore exmark locus lord locus lord 2 da 3 sciami 2 da 10 scorticati 6 e 6 destroyer normali 3 3 3 destroyer pesanti 6 scorpec destroyer 2 da 3 di tomblade quindi vediamo un'impostazione totalmente diversa rispetto a quella che è stata quella della canop giustamente sono due distaccamenti opposti questo punta molto sulla mobilità il poter schierare unità in deep strike ci sta a puntare su queste unità il vincitore del bristol super mayor porta chaos space marine con reneged raiders non so se questo estaccamento lo vedremo ancora dopo con le nuove missioni però porta chaos lord fabius bile e stregone in terminator armor 10 cultisti 1 2 3 rhino unità di biker triplo predator unità di chosen 2 unità di chosen da 10 grossissime una 2 di avok e una di warp talon lista molto particolare un po' diversa rispetto a quelle che si stanno vedendo ultimamente che ho visto molto spam di legionari e warp talon invece questa è andata a poco sui legionari punta sulle due grosse di chosen warp talon ne mette solo una però mette le due di avok una con i last cannon una con i chain cannon lista interessante l'unica cosa come vi dicevo non so se reneged raiders sarà il saccamento utilizzato con con la prossima con la prossima season perché si perde il fatto di poter di poter avanzare e fare e fare con quelle azioni quindi avere armi d'assalto è molto meno forte rispetto a dura però magari sicuramente qualche pazzo ci sorprende e ci porta grosse novità come al solito quindi direi innanzitutto grazie a tutti per aver seguito questo episodio di tournament review ci vediamo giovedì sera con la live per l'analisi del codex adeptas ororitas questa sarà una live che non potete perdere in nessun modo c'è l'italia sti cazzi ragazzi c'è questa live non ha senso ci sarà una sorpresa enorme per tutti non perdetela detto questo pronti per la nuova season pronti per scoprire gli aggiornamenti che faranno ci vediamo giovedì buona giornata a tutti quanti ciao